Ecco, oltre mille ingressi dal 16 di dicembre ad oggi nel sottosegrato della Basilica di San Francesco grazie insomma ai volontari della Fraternita che hanno tenuto aperti questi locali. Sì, è stato un successo inaspettato perché probabilmente la pubblicità che ne è stata fatta anche tramite i media ha portato tantissimi aretini a scoprire qualcosa che neppure conoscevano. E quindi la meraviglia è stata proprio vedere la meraviglia negli occhi degli aretini che scoprivano qualcosa di così importante. Perché però mettere a disposizione il proprio tempo, il vostro tempo insomma per un progetto di questo tipo? Perché ci sembra logico, non si può tenere un ambiente in quel modo così bello, chiuso per semplici motivi di burocrazia. Quindi noi diamo la nostra disponibilità ad aprire al pubblico perché possano godere di questa bellezza. Ci sono tanti secoli di storia e insomma è bene metterla a disposizione non solo degli aretini ma anche dei turisti che finalmente stanno scoprendo Arezzo. Sì certo, ci sono 2500 anni di storia là sotto in quei 300 metri quadrati di scavi archeologici. Noi lo facciamo anche perché pensiamo che questa sia la base della cultura, cioè partire da una cosa semplice come fare volontariato in questo settore e far capire alla gente che Arezzo ha una grandissima potenzialità sia per la storia che rappresenta ma soprattutto anche nei confronti del turismo. Cioè noi non abbiamo ad Arezzo mai avuto la forza o politica o quello che sia per far conoscere quello che è Arezzo. È importante insomma dedicare tempo alla nostra città anche da parte dell'Arma dei Carabinieri? Sì, senz'altro. Noi siamo carabinieri in congedo, nucleo volontariato di protezione civile. In questa occasione abbiamo dato una mano alla confraternità dei laici per quanto riguardano i scavi del sottosacrato della chiesa di San Francesco. La prossima apertura è il giorno della Befana, il 6 mattina dalle 10 alle 12, mentre il sabato e la domenica successivi, che sono il 7 e l'8, sarà aperto pomeridiana, pomeridialmente quindi 15, 30, 18. Insomma Arezzo si apre agli aretini e agli aretini? Arezzo si apre agli aretini e gli aretini si rimpossessano delle gioie più preziose della città che è loro. Grazie.